Questa sera io vorrei dire grazie, grazie per la fiducia che ci ha accordato e salutare Gino Cecchettin. Dunque, col suo meraviglioso discorso di martedì ai funerali di sua figlia Giulia, si sono strette intorno a voi migliaia di persone. Quel discorso è stato esemplare, oggi ha scritto un bellissimo pezzo Stefano Bartizzaghi su Repubblica, è stato un discorso inaudito, nel vero senso la parola mai ascoltato prima, per l'equilibrio e per la dolcezza persino delle parole che lei ha scelto in un momento così terribile. Ed è stato anche spiazzante perché lei ha avuto la forza di parlare in realtà nel salutare sua figlia, nel parlare del futuro. Mi è sembrato che tutte le sue parole fossero rivolte a qualcosa di utile, di costruttivo. E come dice Stefano Bartizzaghi, è anche esemplare perché lei ha individuato, indicato e argomentato le cause e gli effetti del suo dolore. E quindi se le diciamo grazie è davvero perché abbiamo imparato tantissimo. E credo che lei sia qui questa sera proprio per questo, perché l'assenza di Giulia, come ha detto lei, possa portare germoglio per tutti. Grazie Fabio per avermi invitato a questa trasmissione. Il discorso è nato da un profondo dolore, chiaramente, e da cercare di capire quali siano le cause che mi hanno fatto vivere questa tremenda avventura. Ho una mente razionale, penso, e quindi mi sono un po' astratto da quello che era il mero dolore per cercare di capire per prima cosa dove avessi sbagliato io e poi per cercare di dare quantomeno un aiuto a chi ancora non ha la possibilità di salvarsi. E' un po' questa mia metodologia che metto in pratica sul lavoro e nella vita quotidiana mi ha permesso di analizzare i vari punti cercando di trovare le possibili cause che ha portato a non avere più Giulia con me. E' una cosa che ho fatto col cuore, cercando di trovare una possibile soluzione, ammesso ci sia, ammesso ci sia la voglia di intraprendere un percorso verso tale direzione. Io sono qui stasera perché mi trovo il mio malgrado a combattere una battaglia. Una battaglia di cui non era conoscenza prima perché io stesso quando leggevo di femminicidi ero dispiaciuto per la vittima, per i familiari, ma poi giravo pagina come penso facciano la maggior parte delle persone. Avendo vissuto un anno fa un altro lutto molto importante, sono mutato come uomo e tutti gli eventi che mi sono capitati durante quest'anno mi hanno portato a vedere il mondo sotto un altro punto di vista. Io devo ringraziare mia moglie Monica per avermi fatto conoscere l'essenza dell'amore e da lì ho imparato ad essere un uomo diverso. Ti racconto solo un episodio che ti fa capire che quando uno attraversa determinati percorsi, determinate situazioni non può non cambiare, non può non essere più lo stesso. Durante gli ultimi giorni di malattia era in ospedale di sua moglie, mia moglie sì, era molto affranta e si è addirittura scusata con me perché ha detto scusami quando ci siamo messi assieme non sapevo che mi sarei ammalata, scusami per tutto questo. Ecco sentirselo dire secondo me è stata la cosa più vicina alla santità, no? e non puoi rimanere più lo stesso e quindi anche nei confronti dei miei figli è cambiato l'atteggiamento. Ho iniziato a dirgli ti voglio bene, ti amo molto più spesso, ad Elena, Giulia e Davide e ho visto che comunque il rapporto nei loro confronti è cambiato. e quindi adesso mi trovo senza una moglie, senza una figlia e con la possibilità di gridare all'Italia in questo caso ma il messaggio sta arrivando anche oltre Alpe che dobbiamo fare tutti qualcosa Elena ha dato un messaggio ben chiaro Elena, l'altra tua figlia Elena, l'altra mia figlia che è una molto tosta io l'ho sempre definita essere superiore, no? così scherzando in famiglia ma lei è veramente, ha centrato veramente il punto e quando l'ho sentita parlare di patriarcato mi ha un po' interdetto perché conoscevo la parola ma non conoscevo il significato della società moderna e io supporterò Elena in tutte le sue battaglie perché è una battaglia che dobbiamo fare tutti tu non hai avuto timore a usare due parole patriarcato e femminicidio sì un termine che viene costantemente messo in discussione e questa sera non daremo nessuna soddisfazione agli odiatori a quelli che vergognosamente stanno mandando messaggi di odio nei confronti di Gino e di questa vicenda nel senso che è inqualificabile che si permette di giudicare un dolore così grande senza nemmeno poterlo sfiorare né con la comprensione del cuore né quella della ragione quindi lasciamo nella loro drammatica solitudine femminicidio dicevo è patriarcato termine che viene messo in discussione eppure dalla morte di Giulia a oggi sono state uccise altre cinque donne è un problema molto serio e va affrontato nella maniera più drastica patriarcato significa che c'è un concetto di possesso è quello che forse è il cuore della faccenda la donna vista come proprietà di qualcun altro utilizziamo al giorno d'oggi ancora espressioni come la mia donna che sembrano innocue però non è così se la tua moglie è la tua compagna ma non è la tua donna e quindi anche nel quotidiano dobbiamo iniziare a cambiare il modo di di intraprendere una visione della società da un certo punto di vista c'è un problema culturale enorme di fondo che mettiamo in atto senza neanche rendercene conto in buona fede ma proprio fa parte effettivamente del nostro linguaggio della nostra quotidianità ma adesso è Natale nei negozi di giocattoli ci sono i giochi per bambine che naturalmente hanno sempre la macchina da cucire o la spazzola per pulire per terra ci sono ancora cose di questo tipo che diamo per scontate e che in realtà sono l'indice di questo patriarcato che esiste dalle piccole alle cose enormi sono quei retaggi culturali che arrivano dal passato e ancora oggi rimangono però nella stragrande maggioranza dei casi non producono danno ma in persone che magari sono più deboli più fragili e che non riescono ad accettare la libertà della donna o la possibilità che essa abbia tutto il diritto di decidere della propria vita e quindi in quei casi lì sfocia in quello che è la violenza e ancora peggio nel femminicidio tu nel discorso che hai fatto al funerale hai detto che ti rivolgevi innanzitutto agli uomini perché noi per primi dovremmo essere agenti di cambiamento da dove ci consigli di cominciare dovremmo iniziare dal nostro credo più profondo quelle che sono le nostre convinzioni dalle espressioni che usiamo tutti i giorni l'altro giorno stavo parlando con un amico e mi è uscita l'espressione facciamo un discorso da uomo a uomo tac, mi sono bloccato subito quello è l'espressione del patriarcato perché una discussione tra uomo a uomo cominciare a guardare davvero nelle nostre più piccole più quotidiane forme perché poi siamo genitori educhiamo inconsciamente educhiamo in una maniera tale da far sì che la società non cambi che il padre sia ancora padrone adesso chiaramente con tutte le sfaccettature che ci possono essere nelle varie famiglie certo ma comunque dovremmo invece dare un un altro tipo di messaggio senti Geno tu hai che ci diamo del tu perché me lo ha consentito il signor Cecchettino oggi pomeriggio a me ha stupito molto come dicevo l'equilibrio e la dolcezza delle tue parole nel senso che ci sta che nella più grande tragedia che possa capitare a un essere umano cioè la perdita di un figlio ci sta che sopraggiunga la rabbia e tutti i sentimenti affini tu invece come hai fatto a lasciarla fuori come ti ho detto ho avuto un processo di cambiamento e a un certo punto quando quando ti ritrovi a piangere la perdita della figlia perché io ho iniziato a piangere per Giulia già la domenica perché un padre certe cose le sente e ti viene quasi normale provare rabbia e odio però chi conosce Giulia io ho detto no io voglio essere come Giulia ho concentrato tutto il mio cuore tutta la mia forza su di lei e sono riuscito ad azzerare l'odio e la rabbia e mi sono chiesto come però ancora oggi vedo che con questo ragionamento che può magari sembrare troppo razionale ma alla fine è molto umano io voglio amare non voglio odiare perché comunque l'odio ti porta via energia e quindi è tutta lì io credo che queste parole siano una lezione anche qui inaudita davvero mai ascoltata e ti ringrazio ti ringrazio di cuore come ho detto non voglio entrare nella nella modalità della vicenda della morte di Giulia anche se tu hai detto che avevi immaginato intuito quello che stava per succedere o che era successo io ho imparato anche a conoscere dicevo la determinazione di tua figlia Elena e ho trovato fondamentale il suo richiamo a non definire mostri quegli uomini che commettono femminicidi perché il mostro ha un'accezione in qualche modo occasionale cioè il mostro è una figura che non fa parte della normalità il mostro è un mostro lo dice la parola è qualcosa di deforme che non assomiglia a nulla di normale in realtà le parole di tua figlia ci invece ci obbligano a stare attenti ai modelli culturali diffusi a vedere le fragilità dei ragazzi dei maschi a vedere quello che non funziona che non siamo più capaci di vedere esatto il mostro è un qualcosa di eccezionale mentre il caso di Giulia ma nel caso quasi tutti i femminicidi stiamo parlando di normalità quindi dovremmo capire quelle che sono le cause che portano una persona normale a commettere tali gesta e lì bisogna agire su tanti punti io sul mio discorso ho provato ad elencarli ma io inviterei per esempio a utilizzare molto di più i canali comunicativi quindi i genitori a parlare con i figli cercando di non essere amici di essere comunque l'educatore anche se è vero ma che cerca di capire quelle che sono le reali esigenze e magari anche invadendo un po' la privacy non tantissimo perché nel mio caso io ho dato troppo respiro conoscendo Giulia una persona chiaramente molto giudiziosa ho lasciato sempre fare non volevo entrare nella sfera però un minimo di aumento della connettività con i figli con gli amici questo probabilmente permette di raccogliere di più le informazioni e avere un po' di più il quadro generale forse riusciamo anche a capire quello che è il quadro psicologico dei nostri figli e capire se hanno delle debolezze capire se possono essere diventati potrebbero diventare persone potenzialmente pericolose il presidente della regione Veneto Zai ha chiesto che il tuo discorso venga letto nelle scuole il ministro ha accettato ed è una bella cosa è fondamentale anche davvero questa educazione all'affettività e alla sessualità sin da bambini insomma per tutti questa è una cosa che mi riempie d'orgoglio e simbolo che stiamo facendo qualcosa di buono proseguiremo su questa su questa strada ringrazio il presidente Zaia e il ministro dell'istruzione che Valditana che ha deciso di inviare questo discorso alle scuole Giulio prego io mi impegnerò ancora su questa battaglia adesso devo cercare chiaramente di raccogliere un po' le forze perché è stato un mese molto pesante ma l'idea di fondare un'associazione o una fondazione così come mi ha consigliato come mi hanno consigliato è una cosa che sta nei nostri piani per quello che conta se potremo esserti utili lo faremo con grande piacere vi prendo in parola assolutamente assolutamente sì e poi dalla settimana prossima vorrei indossare anche io quel fiocchetto rosso che hai all'occhiello Giulio doveva laurearsi proprio questa settimana giusto? la settimana dell'omicidio sì la laurea verrà comunque consegnata attribuita no? alla famiglia sai già quando? presumibilmente a febbraio questo è dovuto ed è un così è doveroso so che tu volevi anche ringraziare porgere dei ringraziamenti questa sera sì perché io mi son trovato una domenica pomeriggio dopo aver fatto la denuncia spaesato senza una figlia senza una risposta e chi mi è venuto in soccorso è stata l'associazione Penelope che mi ha dato supporto morale perché mi sono veramente stati vicino e stanno facendo tanto un'associazione creata da Gildo Claps e Gilda Milani che hanno fatto veramente tanto e quindi devo proprio ringraziare loro noi dobbiamo ringraziare te per tantissime cose anche per aver citato quei versi di Sibran al funerale quando tu hai ricordato quei versi dicendo che la vita non è una questione di come sopravvivere alla tempesta ma di come danzare nella pioggia e questo dovrebbe valere per tutti perché a tutti noi possono capitare imprevisti malattie qualcosa che non riusciamo a controllare che ci sgomenta no in realtà la vita non è evitare tutto ciò ma imparare imparare ad affrontarlo certo quello che ti è capitato è al di là anche del sopportabile anche dell'immaginabile non lo so però mi piace ricordare ancora una cosa ho letto l'intervista che ti ha fatto Walter Veltroni che è una cosa che mi dicono anche persone che hanno avuto esperienze drammatiche di perdita di figli cioè che nel buio che avvolge una famiglia che perde un figlio la persona che non c'è più diventa la luce da seguire e quella luce dice che a casa tua si vede la luce di Giulia c'è c'è intorno a te c'è dentro di te mi permetto di dire che c'è anche nel tuo sguardo qui questa sera Giulia Monica e Giulia sono sono la mia luce e accompagneranno me Davide ed Elena per il resto della nostra vita faremo di tutto per poter danzare sotto la pioggia per i giorni che ci rimangono in onore di Giulia come stanno Elena e Davide? stanno abbastanza bene chiaramente anche loro sono molto provati da queste settimane piangono una sorella che non hanno più però sono forti e anche loro diranno la sua senti c'è qualcosa che vuoi dire prima di salutarci a chi ci sta ascoltando c'è una cosa a cui tieni in particolare vorrei dire una cosa ai maschi visto che siamo partiti da lì in questo momento vorrei invitarvi a dire ti amo alle compagne e alle mogli non ti voglio bene ti amo ditelo ditelo spesso perché è una cosa che ti amo bellissimo ti amo dovete dirlo sempre ogni volta ma fatelo in questo momento grazie sono queste grazie 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 ora che ci sono veramente che serve va bene grazie grazie a tutti grazie a tutti